Benvenuti tutti, io mi chiamo Victor e in questo video voglio spiegarvi quali sono i tipi di contenuti che potete trovare su questo canale. Visto che il canale pian piano sta crescendo e la quantità di temi che vengono affrontati non sono pochi, può risultare un po' difficoltoso a seguire un tema che vi piace di più. Per fortuna YouTube ci permette di creare delle playlist in modo tale da poter raggruppare dei video che hanno una tematica in comune in modo da poterli seguire più facilmente. In questo modo potete guardare un tema che vi interessa di più e non andare a cercare tutti i video dedicati a questo tema sprecando un sacco di tempo alla ricerca. Detto questo però nel mio canale potete trovare i seguenti temi, anzi aspettate prima che lo dico quali sono. Visto che il canale cresce i temi possono essere ampliati quindi è probabile che ci sono dei temi diversi da quelli che io dico ma perché il video è stato registrato oggi e i temi vengono aggiunti pian piano che escono i video. Quindi i principali temi sono i seguenti. Il primo è certamente tutorial sul Photoshop dove io spiego utilizzo di determinati strumenti e come potete migliorare le vostre tecniche di ritorco fotografico. Tutorial sullo sviluppo Rav ovvero l'utilizzo di Lightroom ovvero la serie You Rav My Love dove io insegno l'utilizzo di Lightroom attraverso elaborazione dei vostri scatti. Dateci uno sguardo mi sembra che è un tema molto interessante. Serie come ho fatto dove io spiego come ottenere determinati effetti fotografici sia in post produzione sia durante la fase di scatto. Backstage fotografici ragazzi per portarvi dietro le quinte dei miei set fotografici. Ultimo ma non meno importante sono le recensioni dove io condivido la mia esperienza di utilizzo di determinati cose fotografiche come può essere un obiettivo come può essere un hard disk o altro. E questi sono sostanzialmente i principali temi che io tratto sul mio canale. Perciò se questi temi vi interessano potete iscrivervi, attivare la campanellina, seguirmi sui social perché no? Perché vi ricordo che anche sui social succedono un sacco di cose interessanti come ad esempio decidete voi i temi dei prossimi video. Potete mandare i vostri rav per la serie dello sviluppo rav e niente possiamo anche tenerci in contatto. Detto questo ragazzi è tutto. Spero di esservi stato chiaro. Se rimangono delle domande potete farmi nei commenti. In ogni caso come sempre vi invito a controllare la descrizione del video perché ci sono un sacco di link utili. E niente basta con questo chiudiamo questo video e vi do il benvenuto nel mio canale. Ciao ragazzi!